Carlo Urbani, questo medico missionario, la sua vita riguarda le nostre vite e anche il nostro presente? Riguarda le nostre vite quelle di tutto il mondo. Io quando Urbani morì di SARS salvando il mondo dalla prima pandemia, intervistai anche Coffey Annan, segretario generale delle Nazioni Unite, che mi disse noi non sapremo mai quanti milioni di vite ha salvato il dottor Urbani e non lo sapremo perché le ha salvate. Quindi quello che lui mise in atto durante la prima pandemia era esattamente qualcosa che io allora scrissi, ma dico la verità ho capito vent'anni dopo, quando ho toccato con mano che cosa era il Covid e che cosa non era stato fatto in questo caso, nel nostro caso, e che invece era stato compiuto proprio da Carlo Urbani vent'anni prima.